bello a tutti ragazzi benvenuti a questo nuovo video oggi siamo sempre su gt online e che vi devo dire a me questo gioco piace allora girare a destra è complicato giusto eh oggi ci andiamo a fare un tatuaggio ma sì perché a me piacciono molto i tatuaggi io mi farebbe pure un tatuaggio be pure nella vita reale allora braccio motorizzato andata scorpione velenoso ah pure gratis boh cioè io c'è il mio segno il mio segno zodiacale scorpione quindi ci metto un bello scorpione questo squalo bello perché lo squalo è feroce una sede ok 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 Un bel drago alato, questo è gratis, che fate nei privi, eh no. Senti. Questo è gratuito, ma le braccia sono state fatte, il petto sono state fatte, l'addome è stato fatto, la schiena pure, le gambe sono state fatte, ma voi sicuramente direte, ma stai, pantaloni lunghi e giacca, ora ci penso io, ci compriamo dei nuovi vestiti, così ci mettiamo, beh, pantaloncini corti, cioè, eh, maglietta maniche corti, così, beh, facciamo vedere tutti i tatuaggi che ci siamo appena fatti, mo' con i pantaloncini, sciè, questo a me, a me mi parano mutande, però, va bene, questi sono pantaloncini, cioè, sono un po' lui, però, cioè, jeans corti, poi è bellissimo che molte cose c'è su GTA Online sono gratuite, eh, facciamo così, pantaloncini, ma sì, dai, non ci sono, ci va, la skateboard, cazzo, voglio dire la skateboard, eh, belle queste, cioè, queste, dai, che sono comunque belle, aggiudicato, cioè, una magliettina semplice, magliette, cioè, una, una maglietta, una maglietta semplice, una, una magliettina, dove cazzo è, beh, poi, beh, ovviamente ditemi, cioè, ecco, tipo, tipo, questa qua verde, cioè, sem, proprio, semplicissima, non è male, ecco, la potremo tenere, bella questa, questa mi, questa mi sa, mi ricordo che c'era pure Trevor, eh, in GTA della storia, ma perché, che cos'è? Tutte semplice, agliette dell'amore, ma te, che cazzo? bella questa, senti, ma io mi chiedo, una maglietta può costare 1300, boh, cazzo di maglietti, senti, facciamo, aggiudicata, questa, ma oh zio, ti sei proprio rifatti guardaroba, ciao, ragia, poi, ovviamente, se mi volete consigliare cose da fare, cioè, ok, entriamo, la macchina casualmente è tutta riparata, prima era tutta sfondata, macchia, ma è riparata, ovvio, io spero che i tatuaggi vi siano piaciuti e i vestiti che gli ho messo vi piacciono, cioè, a me, più chiaro, mi piace la maglietta, niente, se questo video vi è piaciuto, io vi vi metto un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi, attivate la campanella, spero che la scheda di acquisizione abbia registrato, beh, perché, beh, sì, beh, da come vi ho detto ieri, il computer, mi sa che ve l'ho detto, beh, vabbè, forse, beh, vabbè, se non ve l'ho detto, beh, il computer lo sto registrando con la scheda di acquisizione video, perché, beh, così è un apparecchio fisico a registrare il gioco, beh, la webcam la sto registrando con una videocamera fisica, beh, perché, così, il computer deve soltanto registrare il gioco, cioè, la, la registrazione la fanno due apparecchi fisici, niente, se vi è piaciuto, ovviamente, iscrivetevi, consigliatemi attività che vorreste vedere qua, su GTA, ovviamente, consigliatemi dei modi divertenti per guadagnare soldi, noi, ci si becca domani, porto GTA, è bello, c'è danno da fare, è dai, niente, io vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo domani, bella ragazzi. Grazie.